Musica Buonasera cari amici bentornati Allora nuova puntata di calciomania dilettanti come sempre dalla serie D alla terza categoria un lungo viaggio attraverso risultati classifiche immagini terza categoria che questa settimana sarà grande protagonista perché l'ospite di questa sera gioca in terza categoria attaccante della Robur Marmirolo Andrea Maioli, ciao Andrea buonasera Buonasera, attaccante presento anche Giacomo Lasagna, ciao Andrea buonasera Attaccante Giacomo e che attaccante Che attaccante, tanti gol per lui Tu tra l'altro lo conosci già da tempo insomma dai tempi delle giovanili quest'anno già 5 gol in 8 partite per colpa vostra 2 gli hanno annullato Esatto, quindi saresti già a 7 3 a 7 Tu difendi la categoria Sì sì sì, se vuole posso andare a arbitrare sempre No, allora Non andare a arbitrarlo perché lo diciamo già agli amici a casa Robur quest'anno prima in classifica in terza poi ne parleremo Una partita sola ha perso contro la Medolese la seconda giornata Esatto Arbitrata da Giacomo Lasagna Quindi adesso lui non può fare gesti apotropaici ma Esatto Fidiamoci che è meglio che tu non vada più ad arbitrarlo Però partiamo dalla serie D come di consueto perché noi partiamo sempre dalla castellana dalla categoria con tutto il rispetto per le altre maggiore la più importante Castellana che era impegnata al comunale contro il Caravaggio che era infarcito di ex giocatori e l'allenatore anche del Castiglione insomma una sorta di Castellana Castiglione dei tempi scorsi allenatore Crotti Sandrini, Longo, Girometto insomma tanti volti noti Castellana Caravaggio vediamo come è andata Una gara nata male e finita peggio Brusco stop per la Castellana che al comunale di Castelgofredo viene sconfitta 2-0 dal Caravaggio a pesare come un macigno sul match le dubbi e decisioni dell'arbitro Valentina Finzi di Folino Per la gara contro i bergamaschi dell'ex tecnico castiglionese Crotti rientrante Cogliandro punta sul collaudato 4-3-3 con Bonizzi in porta Dedola, Mambrin, Bettenzana e Mazzale in difesa Cullibali, Boldini e Arioli in mezzo al campo Mastroianni, Tommasello e Co in attacco Partono bene i biancazzurri che nei primi 20 minuti sono quasi stabilmente nella metà campo ospite Al quarto Co mette in mezzo un pallone su cui né Tommasello né Mastroianni arrivano Al ventesimo è Arioli a mancare la porta con un tiro al volo Il Caravaggio pensa più a difendersi che attaccare ma al 44esimo arriva la prima beffa di giornata Durante una mischia in area Girometta va giù dopo un lievissimo contatto con Mambrin L'arbitro pur non essendo vicino all'azione assegna il penalty Dal dischetto va lo stesso Girometta che insacca alle spalle di Bonizzi Si va all'intervallo con i Bergamaschi incredibilmente avanti Ad inizio ripresa la Castellana sembra ancora scossa per il torto subito e dopo 10 minuti incassa anche il gol dello 0-2 Errore difensivo di Mambrin che spiana la strada a Sonzoni Il numero 8 ospite serve Valenti in dubbia posizione che non può sbagliare Al sessantesimo gli uomini di Crotti restano in dieci per fallo da ultimo uomo di Zucchinali Nonostante la superiorità numerica i biancazzurri non riescono a reagire arrivano al triplice fischio in doppio svantaggio Rabbia e delusione per la sconfitta dovranno trasformarsi in energia positiva in vista della sfida della settimana prossima contro l'Inver 1 terza forza del campionato Purtroppo è andata male alla Castellana Andrea abbiamo visto episodi chiave che per certi versi hanno risolto o indirizzato la partita Castellana che ha molto protestato sia per il rigore che per il gol adesso non abbiamo le 26 telecamere della Serie A però effettivamente su Girometta il contatto è sembrato abbastanza lieve anche tenendo conto delle fattezze fisiche del giocatore Sì effettivamente mi sembrava molto lieve si è proprio lasciato andare completamente mandando in tentazione l'arbitro e fischiandogli il rigore Sul secondo gol poi abbiamo visto insomma una posizione dubbia con l'attaccante che era praticamente sulla linea di porta la prospettiva non era delle migliori per cercare di capire No non era delle migliori però mi sembrava che comunque era lì già oltre la palla quando è rifiuto il passaggio Giacomo al di là degli episodi visto che ovviamente non ti posso chiedere di commentare gli episodi dei tuoi colleghi Castellana che fa un passo indietro rispetto alla settimana scorsa Sì era comunque una gara molto difficile perché il Caravaggio sempre squadra tosta comunque lo dimostra anche la sua buona posizione in classifica non è stata la solita Castellana sin dall'inizio abbiamo visto un po' in difficoltà non con le solite trame il Caravaggio ne ha approfittato anche se appunto la prima marcatura è venuta sul calcio di rigore sul secondo gol io penso che se anche l'attaccante probabilmente non l'avesse toccata la palla sarebbe entrata per cui magari ecco lì forse ha rischiato più l'attaccante ha rischiato più l'attaccante esatto rispetto a come è finita ecco allora abbiamo detto della Castellana che fa un passo indietro rispetto alla scorsa settimana possiamo anche andare a vedere insieme a Giacomo i risultati del turno di campionato appunto di Serie D Castellana che appunto esce sconfitta dal match casalingo questi invece sono gli altri risultati e tra le prime partite spiccano molte vittorie in trasferta vittorie in trasferta come dicevi tu prima di San Bonifacese 3-1 in casa dell'Aurora Seriate 2-0 poi del Pro Piacenza a Borgomanero vittoria interna invece del Legnago contro il Lecco vince anche l'Inveruno prossimo avversario della Castellana 1-0 in casa dell'Oginattese gol al 95esimo poi 1-0 del Piacenza contro l'Alzano Cene due pareggi quelli tra Pontisola e Gozzano 1-1 e Pro Sesto Darfo Borio 0-0 Rotondo Poker del Seregno 4-0 su un appello Bonate dobbiamo dire che la vita della classifica della Serie D continua ad essere della Pro Piacenza di Stefano Franchi a quota 23 punti a seguire c'è la Pro Sesto a quota 21 come diceva giustamente Giacomo Inveruno e Piacenza 19 con l'Inveruno che sarà prossima avversaria della Castellana tra l'altro la Castellana avrà Inveruno il Gozzano che è diciamo una formazione almeno sulla carta alla portata dei Biancazzurri e poi se non ricordo male dovrebbe avere l'Olginattese Nel mese di novembre si capirà abbastanza di come la Castellana si comporterà durante il resto del campionato Giacomo Decisamente anche perché nel caso insomma queste tre partite fruttino parecchi punti si potrebbe anche pensare magari a un torneo un po' più ambizioso della formazione di Castelgofredo magari perché no lottare per i playoff comunque vediamo la posizione assolutamente invidiabile le 14 punti dopo 10 giornate dista veramente pochi punti dalle prime della classe in caso contrario invece ci sarà ancora da sudare da faticare per raggiungere comunque un obiettivo che è assolutamente alla portata del team di Castelgofredo Ecco Andrea della Castellana sappiamo che partono sempre volando molto bassi con obiettivo diciamo salvezza o comunque cose molto tranquille però in realtà insomma credo che anche tu sia d'accordo nel dire che la Castellana è un po' più che è una squadra diciamo per la zona salvezza almeno ha sempre fatto bene comunque nei suoi campionati partivano sempre con ambizioni basse ma poi comunque hanno sempre dimostrato di più delle ambizioni che avevano anche quest'anno secondo te la salvezza tranquilla arriverà abbastanza in anticipo secondo me si arriverà tranquillamente tranquillamente poi chissà se riuscirà a regalarci qualche exploit come nelle ultime stagioni non è stata invece già come una gran giornata in eccellenza per le mantovane un po' parti invertite rispetto al solito vediamo i risultati perché se l'asola che è sempre andata alla grande ultimamente ha avuto una battuta dal resto invece per la Governolese arriva un pareggio importante vediamo ecco i risultati esattamente era la nonna giornata Castagnato Villongo 0-2 perde l'asola 1-0 a Cili Verghi Nuvolera vince 4-1 a Ghisalba contro i padroni di casa poi pareggio importante comunque della Governolese contro la prima della classe Brusa Porto 1-1 poi 3-0 della Grumellese contro il Sovere vince fuori casa il Travagliato a Diseo contro l'Orsa Corte Franca poi due pareggi per 1-1 quelli tra Sarnico e Pedrocca e tra Scanzo Pedrengo e Vallecamonica ecco giustamente possiamo dire lo accennavi anche tu un turno non facile per le due mantovane lo vediamo anche dalla classifica erano prima e seconda esatto hanno giocato contro le prime due l'asola ha giocato in trasferta quindi contro una corazzata contro una corazzata ci può anche stare credo la sconfitta la Governolese bene invece perché tenendo conto anche che è penultima ha fermato la seconda forza del campionato quindi insomma esatto non ha mai perso sin qui vediamo anche qui a proposito di classifica corta qui ci sono invece squadra in dieci punti quindi forse la classifica è ancora più corta anche degli altri e degli altri campionati vediamo che comunque anche la Governolese che ha nove punti insomma con tre lunghezze in più sarebbe addirittura dalla parte sinistra della classifica quindi è ancora tutto da giocare per la Governolese è stato un ottimo punto quello di domenica tra l'altro classifica corta poi cosa che interessa anche il nostro ospite Andrea Magnole anche in terza nel tuo girone poi lo vedremo ci sono molte squadre in pochissimi punti voi cercate no? di allontanarvi ma c'è sempre qualcuno che vi rimane addosso è un campionato molto combattuto quest'anno siamo tutte lì a combattere per le zone alte vedremo ancora lungo andiamo invece in promozione adesso Giacomo qui dobbiamo dire nonostante il cambio di panchina ne avevamo parlato anche settimana scorsa per il Marmiroli alla fine il cambio è arrivato è arrivato Bevini ex tecnico del Casaromano al posto di Marmiroli ma purtroppo la scossa non è arrivata non è arrivata mentre invece bene il Sarginesco che Andrea segue perché insomma ci sono i tuoi compagni di squadra che sono parenti giocatori del Sarginesco insomma tutta una grande famiglia il calcio direttantistico vediamo i risultati però dicevamo del Marmirolo che è caduto in casa contro il Mairano 2 a 1 mentre invece l'altra Mantovana il Sarginesco ha vinto 3 a 1 anche se possiamo dire Giacomo impegno forse non troppo proibitivo il pro Desenzano è ancora ultimo a 0 punti quindi una vittoria un po' scacciacrisi che ci voleva che sulla carta ci stava ampiamente e che però è arrivata anche confermare le cose sulla carta non è sempre facile non è semplice anche perché la partita si era messa molto male perché Sarginesco è passato in svantaggio dopo una quarantina di secondi quindi ha rischiato veramente tanto comunque alla fine la qualità della squadra è emersa è uscita e hanno ottenuto 3 punti vitali per provare a mantenere la categoria perché come vediamo siamo solo la nonna giornata vediamola anche la classifica perché spesso parliamo di un Marmirolo in crisi che purtroppo rimane tale e dobbiamo dire meno male che c'è la Pro Desenzano che chiude la classifica quindi il Marmirolo rimane abbastanza attaccato sia al Ghedi che alla Calvina Sarginesco e Calcinato che sono lì a 5-6 lunghezzi però insomma ancora acciuffabili Sarginesco Andrea che è in una posizione un po' complicata ma pian pianino sembra riuscire a venire fuori Sì sono entrati secondo me in una piccola crisi ma vari infortuni che li hanno un po' rallentati nel loro andamento ma penso che ne usciranno e che riusciranno a salvarsi comunque Ecco invece chi ha rallentato leggermente ma in una striscia invidiabile e qui parliamo di prima categoria è il Casteldario Casteldario che è ancora imbattuto al pari della Leoncelli che sarà la prossima avversaria dei Bianconeri Casteldario che era impegnato sul campo del Pescarolo e noi vi mostriamo le immagini del match Con questo fanno 9 risultati utili consecutivi il Casteldario chiude solo 0-0 sul campo del Pescarolo mantenendo così la propria imbattibilità stagionale un risultato tutto sommato positivo per gli uomini di Corgi che hanno dovuto giocare più di mezz'ora in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Bellini per doppia munizione i virgiliani iniziano la gara col piglio giusto dopo un minuto potrebbero andare già in vantaggio a negare la gioia del gol a Garutti ci si mette però il palo che respinge la conclusione del centrocampista bianconero la formazione cremonese si destra subito dal torpore nella prima frazione crea molto ma non riesce a concretizzare i tentativi di Ferranti e Bonaglia non centrano mai il bersaglio la gara resta aperta e combattuta anche nella ripresa nonostante come detto l'espulsione di Bellini forti della superiorità numerica i padroni di casa cercano di spingere con maggiore insistenza ma l'estremo difensore ospite Savi e la sua retroguardia riescono a non andare mai sotto pressione al sessantaduesimo il diagonale di Megaro viene bloccato in due tempi una decina di minuti dopo il portiere casteldariese è ancora una volta pronto sul colpo di testa di Anel nel finale le due squadre abbassano le armi accontentandosi del pareggio la settimana prossima per i bianconeri sarà big match a Casteldario arriva la capolista Leoncelli un match assolutamente imperdibile Giacomo Casteldario che conferma quanto di buono fatto dall'inizio della stagione ancora imbattuti cioè non perdono mai possono faticare possono recuperare come è successo in qualche occasione nel novantesimo ma hanno un grande carattere ragazzi squadra di carattere prova di carattere perché il Pescarolo veleggia comunque nelle posizioni alte della classifica quindi è una formazione che ha stupito all'inizio del campionato poi ha avuto una lieve pausa di riflessione una lieve flessione poi ha ricominciato a fare punti è una buona squadra molto ben attrezzata sicuramente con degli ottimi elementi molti acquisti nuovi ma mirati importanti garutti su tutti ex governolese e insomma la bontà della rosa testimonia comunque le buone ambizioni che ha il team bianconero che si sta confermando pienamente nelle primissime posizioni nella classifica poi Andrea tra l'altro credo sia difficile cioè nove partite nove risultati utili consecutive tra vittorie e pareggi comunque non è facile perché ti può sempre capitare la giornata storta in cui l'occasione è a sfavore il giocatore magari migliore che non è in condizione quindi è una dimostrazione di un gruppo probabilmente molto solido questo secondo me sì perché insomma nove risultati utili non è un bottino da poco cioè comunque tutte le domeniche sempre fatica a portare a casa anche il punto sono quasi due mesi e mezzo di campionato sembra poco ma nove partite sono due mesi e mezzo però nel loro piccolo ripeto poi ne parleremo anche voi avendo perso la seconda giornata è un mesetto abbondante un mese e mezzo che siete in striscia in striscia positiva sì insomma valgo non vale ogni tipo di scongiuro non vogliamo non vogliamo assolutamente portare male alla tua squadra andiamo a vedere però anche i risultati della prima categoria vi abbiamo detto del Casteldario che ha pareggiato Giacomo questi gli altri Casa Romano Sported Maris 0-0 Castelluglio San Lazzaro 1-1 poi cade invece il Curtatone per 1-0 a Castelverde perde ancora la Don Bosco di nuovo Mister Lanzini contro il Castelvetro 2-1 altri due pareggi tra Gonzaga e Pomponesco e Leoncelli e Dac vince infine il Porto con un rotondo 3-0 contro i Cremonesi del PSG Leoncelli che si spara Dac e Casteldario in un giro di due settimane formazione al vertice anche per la Leoncelli pur non essendo Mantovana un bel banco di prova per capire se potrà reggere fino alla fine del campionato direi di andare a vedere la classifica di prima siamo ancora in debito della classifica eccola qua Leoncelli 19 Dac 16 Pomponesco 16 e Casteldario 15 e vi ricordiamo settimana prossima Casteldario Leoncelli partita assolutamente da non perdere credo di poter dire che vi proporremo la settimana prossima all'interno di Calciomania di Lettanti anche qui è una bella bagara esatto vediamo 19 poi fino al Curtatone in 7 punti ci sono tutte le squadre della colonna sinistra esattamente e quindi insomma staremo a vedere con tante Mantovane giusto sottolinearlo perché è un torneo comunque insidioso con tante formazioni che magari non si conoscono perché provengono da altre province esatto hai fatto bene a puntualizzarlo solo Mantovane invece in seconda categoria andiamo a vedere i risultati perché poi dobbiamo parlare con Andrea di Robur eccoli qua i risultati non aggiornata Quanegra-Borgovilla 1-0 vince fuori casa il San Matteo sul campo del Magna 2-1 è pari tra Poggesi su Zara e Roverbellese Olimpia il Sant'Egidio-Sampio vince 2-0 contro la Villimpentese Serenissima-Dosol 1-1 lo Sporting continua a vincere 2-0 sul campo del Sermide che è un po' in crisi in questo periodo il Soave che vince 3-2 contro il Virgilio ci sono stati Giacomo dei grossi cambiamenti in vetta alla classifica il Sermide che era primo dall'inizio del campionato e come detto ha un po' rallentato adesso in vetta c'è lo Sporting a Braccetto con Acqua Negra e Roverbellese il Sermide addirittura scivola in quarta posizione si, quarta posizione seppur comunque si mantiene a meno 1 esatto poi vediamo il Dosolo e Sant'Egidio-Sampio a 16 a 15 su Zara a 12 la neopromossa Serenissima che sta facendo molto bene col San Matteo poi anche il Magna che da matricola era partita molto forte ha avuto un lieve calo si trova comunque a 11 punti anche l'Apogese in coda invece in difficoltà sia Soave che Olimpia ma è Soave da due settimane con il nuovo mister Bettone ha ottenuto 4 punti in due partite l'Olimpia invece domenica ha pareggiato in casa di un'altra corazzata la Roverbellese per cui insomma sembrano in difficoltà ma diciamo che non sono non sembrano assolutamente spacciate nonostante il divario in classifica bene parliamo invece adesso di terza categoria partiamo dal Gironea prima di vedere i risultati visto che abbiamo ospite Andrea Maioli andiamo a vedere la partita in cui Andrea proprio ha giocato è quella tra Real Bagnolo e Robur Marmirolo tra poco la super sfida del Gironea di terza categoria regala un punto a testa Real Bagnolo e Robur Marmirolo che al termine di una gara intensa e combattuta hanno dovuto dividersi la posta in paglio una partita maschia ma al contempo assai corretta quella disputata se sul neutro di San Biagio da una parte la corazzata giallonera dall'altra l'autentica sorpresa di questo inizio di stagione partita fari spenti ma ben conscia dei propri mezzi la Robur di Grasselli ha inanellato sin qui una serie di prestazioni d'altissimo livello che le hanno permesso di ottenere il momentaneo primo posto in classifica a bracetto con Rivalta tenendo debita a distanza le altre big medolese ma la vicina la partita come si diceva è stata ricca di occasioni da gol e spunti interessanti bravi sono stati gli ospiti a punire gli avversari nel loro momento migliore dopo un avvio tinte giallonera la Robur a passare grazie ad un penalty assegnato per un presunto fallo di Simonazzi in area di rigore dagli 11 metri va a buon tempo che supererà i neri i padroni di casa sono però sul pezzo e già dopo una decina di minuti pescano il pareggio con Ravenotti freddo sotto porta ad inchiodare l'incolpevole Stocchero il gol trovato sul finire della prima frazione galvanizzi i padroni di casa i quali nella ripresa bastano 180 secondi per completare il suo passo grazie a Michele Giacomelli che finalizza una splendida azione corale il pubblico locale invisibilio e sente profumo di vetta l'incubo però è nuovamente dietro l'angolo proprio allo scadere il direttore di gara concede il secondo penalty della giornata agli ospiti tra le proteste dei bagnolesi il momento è topico ma il neontrato bonfante non si lascia intimorire realizzando dal dischetto come si dice in questi casi è un pareggio che sa tanto di vittoria allora Andrea è stata piuttosto dura sul campo del Real Bagnolo tra l'altro anche qui episodi insomma da rivedere possiamo dire due calci di rigore dal campo c'erano non c'erano ma primo la trattenuta c'è stata anche lì poteva fischiare come non fischiare perché sono le classiche trattenute in area evidentemente l'ha visto però ha fatto bene a darvelo sicuramente ha fatto benissimo a darlo e secondo anche lì pareva dubbio non dubbio dentro fuori dall'area non tanto il fallo quanto più forse la posizione quanto più la posizione forse ma anche lì ha fatto benissimo a darlo comunque a noi ci sta bene così tu vuoi fare il locato del diavolo e difendere gli altri sul primo sul primo rigore il fallo l'ha commesso mio cugino lo dico Stefano quello che veniva anche a giocare con noi salutiamo il nostro amico Stefano ecco magari la prossima volta diciamo che hanno trovato l'arbitro abbastanza severo domenica che comunque sai come dicevo giustamente lì prima sono tre tenute che si fischiano e non si fischiano quindi magari ha trovato quello piuttosto severo noi vogliamo sapere quello tu l'avresti fischiato il primo no il primo no perché anche nella mia domenica c'è stato un paio di trattenuti in area ma a meno che veramente non succeda l'imponderabile solitamente almeno io all'inglese esatto lasciare correre giocare va bene insomma comunque Andrea al di là del pareggio che abbiamo detto suona quasi come una vittoria perché un 2 a 2 ha ciuffato allo scadere su un campo difficile contro una sorta di corazzata del girone comunque positivo è molto positivo perché comunque subito si erano messe bene le cose ma dopo con l'andare insomma è una squadra che gioca comunque il bagnolo molto fisici difficile da da affrontare e da superare vediamo anche gli altri risultati della terza categoria ha riposato il Cavrian Ponte in questa giornata vittoria esterna del Rodico sul campo della Ceresarese il Lunetta raccoglie la prima vittoria stagionale contro la Cannetese Medolese-Voltesi 2 a 0 Malavicina espugna il campo del Monzambano 1 a 0 e poi Rivalta che vince 2 a 0 contro il San Martino in classifica quello che dicevamo prima molto corta voi siete primi a pari punti con Rivalta tallonati da Malavicina Albagnolo Medolese-Voltesi-Rodico perché sono tutte lì eh sì sono tutte lì un campionato molto combattuto è ancora presto per parlare di prima e seconda perché però voi ci sarete fino in fondo speriamo ci provate almeno ci proviamo noi cerchiamo di dare il meglio domenica dopo domenica e cercare di restare sempre lì in alto bene velocemente perché siamo già in ritardo terza categoria Girone B con il Moglia che vince 2 a 0 contro il Felonica vittoria esterna del Boca contro lo Stiglia 3 pari tra Pieveza e Sustinentese pareggio tra Schivenogli e Revere vincono fuori Dinamo Gonzaga contro il Segnate e Liveco Suzzara contro il Pegognaga e qui c'è meno da dire nel senso che Liveco Suzzara in classifica le ha vinte tutte è l'unica dei dilettanti non imbattuta ma ancora a punteggio pieno 24 punti e ha già messo la freccia e ha salutato le inseguitrici anche se a dire la verità ci sono solo 5 punti tra la prima e la seconda quindi ancora tutto aperto siamo in chiusura grazie e in bocca al lupo da Andrea Maioli che rapì il lupo e speriamo in un ottimo campionato speriamo grazie a Giacomo Lasagna grazie a te Andrea buonasera a tutti un po' di pubblicità e poi restate con noi perché c'è Calcio Mania Giovani con Matteo Borsi alla settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti